ciao a tutti roberto vedi il channel sempre qui allora vediamo questo questo verde kawasaki boswagen caddy in compagnia di tudor ma vedo qua che c'è antifi cosa che fa di bello aspetta car wrapping guarda non immaginavo il car wrapping non lo immaginavo strano non è originale boswagen questo colore bene dove c'è di bello di l'azienda è settimo milanese bene comunque qua vicino a milano ovviamente come mi hai trovato bene hai visto un po di video di youtube e hai già detto anche settimo mesi quindi fortunatamente siamo abbastanza vicini che siamo sempre in milano allora boswagen caddy farà parabola come vedete 2009 e vi devo dire che c'è un problema però sono riuscito a risolverlo supporti di questo volkswagen caddy volkswagen per tutte le palle c'è rotto sono riuscito col boss 150 perché quello che mi inter salva non è in sé la corrente che qua tanto la prendo io coi fasto è la rotazione il boss 150 nostro è un prodotto in lamiera in ferro alluminio come vogliamo chiamarlo che ha le due elette per fare la rotazione per stare in asse quindi cosa faceva questo prodotto faccio così e rimaneva attaccato sono riuscito col boss 150 a diciamo sorvolare questo adattatore perché sono adattatore io prima volta che lo vedevo quindi fortunatamente base a cassette non ci sono problemi di spie per quanto riguarda è stato fatto anche kit led radiator anche an abbagliante anche abbaglianti in base h1 devo dire che la potenza molto molto elevata prossimo step si potrebbe fare anche un discorso fin di nebbia per fare tutto boswagen caddy giusto se sei ancora qua perché magari poi lo do via bene come sempre sotto i link della descrizione del boswagen caddy 2009 elettro discount dove trovate anche lo shop online shop punto elettro segno meno discount punto com il canale sempre un bel like su facebook a elettro discount mister rgc roberto di channel youtube instagram spetta facebook e ti toc sanziano l'amore via primo maggio civico 16 telefono 02 98 26 02 07 ragazzi vi aspetto ciao